Sono Alberto Paolucci, amministratore di Iri dei Sistemi, siamo qua all'Ise a presentare il nostro software di Digital Signage Gas Media, una soluzione che affronta tutti i mercati, quindi sia quello italiano che europeo-asiatico. Il software è stato tradotto in varie lingue e siamo soddisfatti dell'evento perché abbiamo avuto molti contatti positivi e il nostro software Made in Italy riesce a soddisfare le esigenze del mercato. Speriamo nel dopo fiera di riscontrare i contatti che ad oggi sono circa 300, quindi siamo molto soddisfatti.